Per gli dèi Che sia un messaggio mandato dal cielo È come se Raph fosse sceso fra di noi Per gli dèi La sfera di fuoco ha rivelato l'entrata di questa tomba È un segno degli dèi Che si riferisca a una meridiana Chissà Questo numero sembra importante Questo numero sembra importante Per gli dèi Per gli dèi Deve essere la meridiana che era descritta nella tomba Per gli dèi 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 Per gli dèi